Sono ancora sotto sequestro i 32 cagnolini di piccola taglia portati via da un'abitazione a Cremona dove la padrona, una donna non autosufficiente, non garantiva loro una vita adeguata. Partendo dal fatto che la signora non era autosufficiente, quindi è partito il recupero dei cani. Comunque i cani erano in buona salute, non erano malnutriti, si è fatto fatica a prenderli perché comunque erano in tanti. L'area era grossa, quindi si è fatto un po' fatica per questo. Il sequestro è avvenuto in febbraio e benché i cani non abbiano problemi di salute risultano fobici e problematici. Si sono andati ad aggiungere i 60 cani già ospitati nella struttura dando lavoro in più ai volontari del canile Ampana di Calvatone. Ora per questi cagnolini dopo il dissequestro ci dovrà essere un percorso di rieducazione per renderli adeguati a vivere in famiglia. Nonostante gli abbandoni abbiano subito negli ultimi tempi una flessione, un fenomeno altrettanto preoccupante e invece in crescita è quello della rinuncia di proprietà. Abbandoni veri e propri secondo me rispetto agli anni scorsi sono calati. Cioè parlo di cani trovati vaganti, senza microchip, soprattutto nell'area del Cremonese. Sul Mantovano e soprattutto in alcune aree purtroppo ci sono ancora tanti ritrovamenti. Mentre purtroppo si è alzato il trend delle rinunce di proprietà, cioè di persone che prendono con sé cani, secondo me anche molto superficialmente, anche tipi di razze particolari che richiedono comunque un'educazione, un addestramento e una forte motivazione. E poi per vari problemi sono al 99% dei potenziali ospiti, poi qui ovviamente si tenta il recupero comportamentale, educativo. Non è sempre facile, ma più che altro anche se riesce le persone non sono molto disposte, la maggior parte, ad adottare dei cani così problematici. L'appello di Ampana è duplice, ad aiutare gli ospiti del canile per quanto possibile e a ponderare la scelta dell'adozione per essere in grado di assumere la responsabilità che essa comporta. Se qualsiasi tipo di cane si debba, si voglia adottare, ma soprattutto i cani più sono grossi o hanno una certa morfologia, più possono fare danni. Quindi è buono che siano educati ed addestrati. Per aiutarci ci serve cibo, sempre, soprattutto crocchette adesso piccole per tutti quei cagnolini che sono nuovi entrati. E poi ci sono anche cani che hanno bisogno di un cibo particolare. C'è tutto quanto sulla pagina nostra Facebook, Canile di Calvatone, barra ACR, e anche sul sito internet che è www.canileampanacalvatone.it